Ciao Possiamo parlare? Possiamo farlo da qualche parte, da soli? Senti, so che vuoi delle risposte e le avrai presto sono quasi pronta a darti delle risposte ma io non mi sento ancora sicura Allora perché sei venuta? Perché tu mi manchi Starti lontana mi uccide Perciò sei venuta fin qui per dirmi che non puoi stare qui A presto A presto A presto So Grazie a tutti